Una produzione annua di quasi 2 milioni di ettolitri, 350 mila bottiglie da un terzo ogni tre ore, 800 ettari di terreno coltivati ad orzo e più 10% di fatturato solo nel 2014. Numeri che raccontano il presente di un'azienda che ha una storia lunga decenni, iniziata nel 1864. Si tratta della birra Peroni, la bionda più amata dagli italiani, una filiera made in Italy apprezzata in 60 paesi del mondo. Merito soprattutto dell'accostamento dell'innovazione alla tradizione, come ha dichiarato il direttore delle relazioni esterne di birra Peroni, Federico Sannella. Un'azienda veramente storica su questo territorio, che ha uno stabilimento dal 24, quindi parliamo veramente di tantissimi anni fa, ma che ha saputo mantenere e investire sul territorio. Tant'è che da ultimo abbiamo approvato un investimento di oltre 9 milioni di euro, proprio per ammodernare l'impianto, per rendere più efficienti tutti i nostri sistemi produttivi, per risparmiare il consumo di energia e di acqua, perché bisogna essere sempre compatibili e fare degli investimenti che siano sostenibili, che curino e guardino all'ambiente, ma allo stesso tempo che mantengano la qualità e il prodotto sempre al massimo, come birra Peroni è, tra l'altro. E Confindustria Bari e Bat non poteva scegliere tappa migliore per il proprio viaggio nell'impresa. Peroni è un'azienda del nostro territorio, non mi ricordo l'età in cui è stata fondata, credo nell'Ottocento addirittura, quindi è una fabbrica storica per noi, ma ha anche una dimensione anche grande e soprattutto è un marchio che fa fare bella figura all'Italia e alla Puglia.